Piacenti Michele, posatori e livigatori di parquet, posa in opera di laminato, pvc, battiscopa e posa in opera di scale in legno. Piacenti Michele, a Sant'Angelo di Gatteo. Piacenti Michele, a Sant'Angelo di Gatteo Piacenti Michele, a Sant'Angelo di Gatteo e dintorni che un tempo si identificava con la stessa festività pasquale ed agliettava anche la tavola dei più poveri. La sagra dedicata alla pagnotta pasquale, tipico prodotto della vallata del Savio, si svolge tradizionalmente nelle due domeniche che procedono la Pasqua. Il 3 e 10 aprile, e siamo nel 2022, lo voglio ricordare. I forni locali preparano grandi quantità di pagnotte vendute ai numerosi convenuti. In tale occasione la Proloco organizza un mercato che occupa l'intera piazza Plauto e le vie adiacenti. Le bancarelle offrono ogni tipo di prodotto, dai prodotti tipici dell'artigianato a oggetti prodotti da artisti, a capi d'abbigliamento, fiori, ecc. Burdel, al Savio che è messo curiosa, quindi sui è una festa, noi andiamo a scoprire le cose di Sarcina. Seguitemi. Cari amici di Teleromagna, siamo dentro al forno Baciocchi e siamo con la titolare Cristina. Ciao. Ciao. Cara Cristina, abbiamo passato due anni veramente col Covid che credo che è stata abbastanza dura anche per voi. Sì, 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 perché comunque il turismo era un po' tutto bloccato, però comunque abbiamo continuato a lavorare perché la nostra pagnotta è un segno di tradizione importante, soprattutto nella nostra vallata, nella vallata del Savio. Quindi abbiamo continuato, ecco. Quindi siamo in periodo di Pasqua e diciamo che la pagnotta pasquale è la sua tradizione e c'è anche la colomba, giustamente, no? Però mi spieghi un po' gli ingredienti di questa pagnotta? Sì, la pagnotta è sostanzialmente fatta con farina, zucchero, uova, poi c'è l'anice dentro e il lievito madre. Noi utilizziamo solo lievito madre, quindi molto leggera, molto soffice, molto digeribile. Quindi allora, gente, non state a casa, venite, salite nelle colline, venite qua a Sarsina al forno Baciocchi e prendetevi una bella pagnotta pasquale. Ma quanti altri prodotti hai qui nel forno? Noi facciamo tutto, dolci, biscotti, ma anche, soprattutto, la colomba con il lievito madre, che facciamo diversi gusti. Le facciamo con i fichienuoci, la facciamo classica, la facciamo con i frutti di bosco, cioccolato. Quindi sono veramente, anche queste, molto, molto leggere perché c'è solo lievito madre dentro. Quante ore dedichi al tuo lavoro? Ah, 10-12 ore al giorno, quasi sempre, perché il nostro lavoro è così. È vero che ci sono i giovani che, certi lavori, ne vanno più fel, è vero? No, ne vanno più inciù. Abbiamo la Valentina, la chiamiamo. Ne vanno più fatica. Vale, vale, vieni qua con noi. Oh, cari amici, guarda, sembra che non troviamo giovani da lavorare, invece noi siamo con la Valentina. Ciao, è appena arrivata. Ciao, ciao a tutti. Valentina, parlare davanti al titolare è difficile, ma un pregio è un difetto della Cristina. Vai. Allora, diciamo, è molto disponibile, da sempre dei consigli giusti, è l'unico difetto che è molto precisa, troppo precisa forse, nel suo lavoro. Quindi molto meticolosa, precisa nei particolari, sei così? Sì. Anche nella vita privata? Eh sì, rompo le... è coiones. Le coiones, bellissimo. Allora, ragazze, siete pronte? Pronte. Cosa vuol dire la parola friendzonare? Friendzonare è un luogo dove si incontrano gli amici. Sì, credo. Siete sicure? Sì. La friendzone, secondo voi cos'è? La friendzone è un luogo? È un luogo, esatto. Siamo sicuri? Per me è più bravo a fare la pagnotta. Per me è più bravo a fare le colombe. Vi dico cos'è il friendzonare. Significa mettere nella zona degli amici, cioè fare una friendzona solo per gli amici. Quindi, se tu non sei in quella lista, vuol dire che non sei proprio un amico così importante. Capito? Io mi friendzono. A lui non lo voglio, ti capivi? Va bene. Va bene. Furb si zovane, eh? Sì. Sì, sì. Però te hai detto che il dialetto e l'inglese lo mansi? Sì. Poco. Friends... Dai, qualcosa? Amici. Allora, fatemi un saluto nel vostro dialetto o in inglese. Come volete voi? Dice la mia figlia. Ad salute. Ad salute. Ad salute. Eci, salute. Oh, cari amici di Tele Romagna, qui, qui a Sarsina, sono con tre belle signore. Enrica, Ornella e Giuliana. Ma eravate qui perché aspettavate di entrare per il collare? No, non lo so. No, siamo andate a messa. Ah, la messa. E com'è andata? Perché so che qua, se sei un po' birichino, ti mettono il collare. Non funziona così qua? Certo, certo. Quindi voi non avete, nella vostra vita, mai avuto bisogno? No, l'abbiamo messo a volte. Com'è andata? Bene. Benissimo. Io vengo da Bologna, poi abito a Bologna. Quindi quando lo metti senti questa aurea nel corpo che si sta bene. Ma che bello, vedi? A Sarsina avevamo anche questo, Burdel. Lei è di Bologna? Abito a Bologna, sono nata qua. Ah, di Sarsina. Allora, come siete con lo slang giovanile? Sapete le parole che vanno di moda adesso, no? Cosa vuol dire? La parola spoilerare. No, spoilerare. Certo, spoilerare. Non lo so. Spoilerare. Spogliare. Dai, 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 ci siete qua. Spoilerare. Fa la sfoglia. Fa la sfoglia. Cosa dice? Non la faccio, non sono capace. Allora, spoilerare. Enzo, te lo sai che stai zitto, eh? Dai che ci... Vi devo dire cosa vuol dire, eh? Allora, praticamente, svelare anzitempo l'epilogo di qualcosa. Per esempio, il finale di un film. Te hai spoilerato il finale di un film? Non lo sapevi? No. No. Ah, ragazzi, questi sanno più di collare che spoilerare. Fatemi un bel saluto in dialetto. O sennò, il saffè che la sfoglia, secondo me. Certo, certo. Sì, sì, sì. Devo salutare? Ciao, buona giornata. Ciao, anch'io. Mi raccomando, non spoilerare troppo, sennò riveli il finale del film. Fa la breve, eh? Va bene, senza altro. Cari amici di Teleromagna, abbiamo preso due fedelissime a Teleromagna. La signora Laura e la signora Fioralba. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ma è vero che lei guarda spesso solo Teleromagna? Sì, 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 sì. Come mai? Ma perché trovo delle cose che mi vanno... Sono molto carine. Sì, 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 sì. Si ascolti in dialetto, lei capisce? No, sì, però è meglio in italiano. Quanti anni ha lei? Possiamo dire? No, insomma, lo dico. 90 a giugno. 90 a giugno! Allora, la signora Rosalba mi ricorda, e mi non, che la campena massa perché uspasevi cazzo. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Eh, sì, si fatti i suoi. Che non si faceva gli affari degli anni. Eh, beh, ma è così, ma è così. Ma la Fioralba com'è, tranquilla? Ma sì. Adesso lo chiediamo anche alla Laura. Tranquilla, tranquilla, si fa i fatti suoi, è brava, brava. Allora, fammi un saluto in dialetto perché ti guardano tutti. Oddio, ciao, salutot, dico così. Oh, cari amici di Teoromagna, guarda, sono qui con due prodotti tipici romagnoli, dei figaioli di Gatteo. Sono qua su, cosa ci fate a Sarsina? Ah, siamo venuti a cercare le fighe. Figaioli, come è che fa a Sarsina? Ma dai, che le ragazze so che le avete mandate mettere il collare, dite la verità. Eh, dai, ci sono un attimo imboscate per lasciarci un po' di libertà. Cari ragazzi, oh, ma se state pronti mi raccomando perché qua vi faccio un indovinello. Sapete, no, lo slang dei giovani, no? Le classiche parole dei giovani che vanno di moda adesso. Se uno ti dice, ciao bro, cosa vuol dire? Ciao, ciao fratello. Ah, non sono amico, ma sono romagnolo, ciao. Sì, bravissimo, bravissimo Amaro perché bro è un'abbrevazione di brothers che nella lingua inglese sta come fratello. Quindi se vi dicono ciao bro, vuol dire ciao fratello, come stai? Salutate nel dialetto invece? Come siete? Un saluto in dialetto. Absolute. Absolute. Che salute? Absolute. Oh, cari amici, qui a Sarsina, guarda, vedi, dietro di me ci sono dei giovani. Andiamo a chiedere anche loro qualche slang giovanile, no? Quelle parole che sono, diciamo, che vanno di moda con i giovani. Ma questa sembra di conoscerle. Venite qua ragazze. Siamo le moglie dei figaioli. No! Ma voi non sarete mica la Sonia, la Roberta, che siete andati a mettervi il collare dentro in chiesa? Certo. Abbiamo anche... Ha fatto fatica, ha fatto fatica. Usse chose? Sì, mi requal. Allora, stavo parlando di slang giovanile. Allora, le parole dei giovani. Ma questa è una parola che conosciamo anche noi di una certa età. Cosa vuol dire sbocciare? Dai, sboccia! No, sbocciare. No, sbocciare, non lo dico. Sbocciare, dai, sbocciamo qualcosa. Spaccare. Soprattutto quando siamo a tavola. La boccia. Ah, ci obbricchiamo. Sbocciamo la boccia. Sbocciare amici di Tera Domagna, devo fare un saluto particolare alla signora Renata, Renata Di Gatteo, che venerdì ci siamo trovati in un capanno tra amici, suo figlio Sandro Fiumana, detto Fiume, lui era andato a cacciare la cacciagione piccola. Abbiamo mangiato un primo alle anatre e poi abbiamo mangiato la cacciagiona dei tordi, degli storni che erano fenomenali. Grazie Renata, ti vogliamo bene. Alla prossima cacciagione. Ciao Renata, saluta anche Fiume. Ciao Burdel. Cari amici, siamo qui con delle sarsinate do che siamo con Lorenza che oggi è il suo compleanno, quindi cantiamo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Lorenza, tanti auguri a te. Ragazzi, guardate, stanno già festeggiando, quindi una parola, uno slang. Uno slang, diciamo, sì dai, diciamo giovanile. Cosa significa la parola spottare? Spottare? No, spottare. Io ho spottato quel ragazzo ieri sera. All'inglese, individuato, trovato. No, no, no. Guarda, lui c'è qua. Individuato, trovato. Era lui inglese. Secondo voi, ah è inglese? Praticamente, praticamente, sono soggetti che in realtà non si conoscono di persona, però, tipo, te hai un'amicizia su Facebook che però non lo conosci, lo vedi in giro, quindi ti dici, io ieri sera ho spottato quel ragazzo in quel determinato posto. Te hai mai spottato qualcuno che ti interessava? Ehm, no. E lui, e ti ha mai spottato qualcuno di nascosto che gli interessava? Sicuramente. E com'è andata a finire? Male, molto male. Ha sbocciato! Ragazzi, ditemi una parola in dialetto, un saluto in dialetto, dai. A salute. A salute. A chavdem. Sarsina con furore. Avete mangiato la pagnotta, no? Ancora no, mangiamo dopo. Cari amici, qui a Sarsina, guarda chi abbiamo incontrato, il mitico personaggio Checco, ciao Checco. Ciao, ciao Michelone. Allora, da Montiano hai preso la tua macchinina a Civ, non so. Sì, ho preso la seccante, 45, 10 minuti, un quarto, sono arrivato. Ma questo tempo com'è? Ah, il tempo è pazzo, le stagioni non ci sono più, in campagna siamo bagattati, come le nostre stagioni del genere, però ho stoccatolo a cumulave, perché l'ho è passo a quel che passa. E c'è appena quel che viene. Allora, caro Checco, c'hai una barzellettina per noi di Tera Romagna? Certo. Vai. Parto così? Vai. Allora, alle tre e mezza della notte, una signora si sveglia con un gran prurito sulla punta dei piedi. Il prurito va su alla caviglia, il ginocchio, lei si sveglia, se ne accorge che è un topolino e gli si infila dentro. Arca miseria. C'è il medutore, il disdottore, il dottore, il dottore, il mosso. Ah, signora, sono cose che possono capitare. Lei si mette sul letto, le gambe aperte, una fettina di formaggio lì davanti, dieci minuti sono da lei. E dottore, tardi una mezz'ora, quaranta minuti, l'arrivo, e questa signora si mette le gambe verti, sono qui davanti e non si è messa una fettina di formaggio, ma una ciuga. Dottore, ma avevo detto una fettina di formaggio? Ah, dottore, l'ho ragione. Ma vedi che passi al sorgo e non è riegato? E' così, dai. Grande Checco, grazie per la tua allegria. A voi, grazie ragazzi, buona domenica. Cari amici di Teleromagna, sono con un gruppo di riminesi che hanno preso la loro macchinina e giù dal mare sono saliti in collina. Siamo con Mirko, Cristian, la Romina e le sue amiche. Allora, ragazzi, si ascolti in dialetto? Si, ma capiamo bene. Allora, ascoltiamo il dialetto. Total Seri, la minona, prima d'andesalet, l'amgeiva. Amor, amor, ma l'ammuriva mai. Cosa ho detto? Traducetelo in italiano. Amor, amor, muoio, ma non muore mai, ma non muoio mai. Dio santo, la vuoi campionare 200 anni. Campionare in terra, eh, sì. Perché dal volto al noni, i neckmails non che le campionano maggiore perché us facevi il cazzo. Dal volto al noni, sì, esatto, esatto, sì, sono un po' in piccione, un po' in piccione, lei sì, lei sì, lei sì. L'exè, però senza di loro... Però mi comprava sempre la pagnotta, io sono venuto qua per questo, eh. Ah, allora la nonna era forte. Sì, 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 mi faceva il bustrengo, mi comprava la pagnotta, e quindi era un po' di penna billi, ma quindi confinava un po' qua con Sarsina e girava. Quindi la zona più o meno cambia vallata, ma è questa. Allora, oggi loro compreranno una bella pagnotta e adesso mi fanno un bel saluto in dialetto per tutti noi. Dai, vai. Buona domenica, salutiamo a tutti. Stanno i figli tutti. Ciao, Sarsina. Cari amici di Teleromagna, sono qui con Bruno, che stanno facendo il concorso Magna Pagnotta, indovina il peso. Praticamente chi indovinerà il peso si porta a casa la pagnotta? Chi ci va più vicino. Chi ci va più vicino. Quindi qui anche il grammo avendo da pesare. Sì, dopo magari, logico che non tutti daranno anche i grammi. Va bene, allora, tieni in mente quello che ti dico io. Secondo me, a guardarla, quella lì è 4,850 grammi. Li giochiamo, che così... No, li giochiamo, bravo, va, dago un euro. No, no, va bene. Allora, ascolta bene, sta attenti, sta attenti. Che cos'è un eterosessuale? Un eterosessuale? Cos'è? Ah, è uno che è il piestagnocca. Beh, tradotta così ci può anche stare. Praticamente è una persona attratta da un'altra persona sessualmente, opposta alla propria sessualità. Cioè, se sei un uomo ti piacciono le donne e se sei una donna ti piacciono gli uomini. Esatto. Quindi a noi ci piacciono gli eterosessuali. Sì, perché a me piace il donno, non... Bruno è l'antica, gli piace la... Ah, pagnotta. Saluto a tutti, Bruno. Ciao. Cari amici, qui a Sarsina si trovano anche delle coppie. Sono con Elisa e Lorenzo. Ciao, ragazzi. Ciao. Siete di Sarsina? No, io di Cesena. Cesena, eh? Acqua partita. Ah, ma lo sai che anch'io ho una casetta acquapartita. Mia mamma era di acquapartita. Bene, bene. Pian di cipolla. Sai dove? No. È acquapartita, dai. È lì, è lì. Allora, cari ragazzi, state attenti, eh. Le parole che usano un po' i giovani, ma questa è una parola che la sanno tutti. Cosa vuol dire la parola bidonare? È dare buca. Esatto, dare buca. Allora, bravissimi. Dare un bidone, cioè non andare all'appuntamento. Vi è mai capitato? No, non mi è mai capitato. E sei sempre data all'appuntamento e l'uomo c'era sempre? Sempre, sì. E invece te ti ha bidonato una donna? No, così ricordo no. Secondo me loro si sono conosciuti dietro due bidoni, secondo me, mai stati bidonati. Allora, adesso fatemi un bel salutone nel vostro dialetto. Quello di acquapartita è bellissimo poi, vai. E un saluto a tutti. Un saluto, ciao. Oidi se c'è i Fung acquapartita, sei qui ai Fung. Ciao a tutti. Cari amici di Tera Romagna, col consenso della mamma Greta, Siamo qui con Federico, ciao. E salutiamo anche Francesco, ciao. Ciao, io mi chiamo Federico e ho otto anni. Fede, mi puoi aiutare? Cosa vuol dire social network? Cos'è il social network? Cos'è? Non lo so. Allora, ti aiuto un po'. È un servizio informatico, secondo te, dove è online che permette magari a tante persone di connettersi, di parlare tra di loro, far vedere qualche foto, qualche video? È quello? Sì, secondo me sì. Secondo te, cos'era il social network un po' vecchiotto di tua mamma, di qualche anno fa? Come facevano loro a incontrarsi, secondo te? Secondo me, quando si mandavano i messaggi e le foto, si incontravano per caso. Ah, loro secondo me andavano con i bigliettini, col piccione che portava il biglietto e si trovavano magari nell'acqua. Invece è più semplice andare su internet. Quante ore stai te col telefonino o con qualcosa del genere? Ah, io di solito quando sto col telefonino ci sto circa un'oretta. Ma allora sei bravo, sei ancora uno che gli piace, vedo, a cacciare, vai a caccia, vai. No, no, io faccio calcio, però mi piacciono molto le armi. Ah, bravo, armi da difesa. Mi fai un saluto in dialetto? Ciao, assalat. Assalut ma tot. Cari amici, siamo qui con Lombardi Rizziero. Ci tiene a precisare che lui è di Ronta? Ronta di Cesena, vicino Cesena, 5 chilometri. Io produco tutti questi prodotti qua dalla mia azienda, li trasformo, ho anche il miele, le mie api sono lì in fotografia e quindi propongo questi prodotti al mercato Cesena e nelle varie sagre che trovo in giro. La gente è contenta perché sono prodotti buoni, bio e li faccio soprattutto io, nel senso che vengono dalla mia azienda e quindi possono stare tranquilli e sicuri. Oh, che bello, vedi, le aziende, me la volta. Allora, adesso invece Rizziero, mi devi dire cosa significa stalkerare? Puoi ripetere? Stalkerare, cosa significa? Stalkerare, mi è nuova, stalkerare. Stalkerare. Allora, deriva dall'inglese, to stalk. Cosa vorrebbe? Ma, non so. Hai sentito che quello è uno stalker? Uno che parla male, uno che fa fatica a parlare, uno che, non so, fa, dice, ravvisa un po' le parole. Ragazzi, ho capito, è più bravo a fare il suo lavoro, il miele. Stalkerare, praticamente, dall'inglese, to stalk, inseguire, scoprire tutte le informazioni su quella persona, a volte diventa anche quasi ossessiva. Quindi, non stalkerare le api, hai Mark Mann? È una parola che non va molto di moda, però, nel senso che... No, 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 il TV, lo stalker, c'è anche il reato di stalker, vedi? Loller versi in drì. Cari amici di Teleromagna, siamo con Noemi e Manuel. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Siete di Sarsina o siete venuti su a prendere la pagnotta? Siamo venuti a prendere la pagnotta, abitiamo al Cesenatico, però c'è Manuel che ha il babbo che è di Sarsina. Ah, il papio di Sarsina. Esatto, sì, sì, è qui di Sarsina, è un sarsinante verace. Quindi, e va, e sa anche il dialetto. Eh, già, sì, sì, sì. Va bene, va bene, allora se te gli dici a lei, te hai una testa che me la mazzola, sai che vuol dire? Eh, vuol dire che hai una testa un po' dura, insomma, dai, una testona, insomma. C'è una testona? Sì, abbastanza, direi di sì. E se invece te a lui gli dici, la va per te che ti non capisci niente? Ecco, è che va per te che non capisci niente e quindi non è anche quella, un gran complimento, direi. Chi porta i pantaloni in casa, l'uomo o la donna? Ma dipende, dai, diciamo così. Se hai già capito, li porta a lei. Caro Cangini, cos'è un eterosessuale? Un eterosessuale? È uno che ha una sua sessualità. Praticamente, a lei danno fastidio gli eteri sessuali? Assolutamente no. No. A te, Piz, Aldoni o Yonman? Mi piacciono gli uomini. Ah, lui è eterosessuale davvero. Allora, vi faccio un bel saluto nel dialetto. Un pizzo agli uomini, Yonman? Le Ford, le Ford. Ragazzi, la concorrenza, quando è leale, fa sempre bene. Noi siamo con Achille Freelance di... Sarsina. Ciao Achille. Gioco in casa. Gioco in casa stavamo. Achille, racconti anche te la storia di Sarsina. Beh, sì, in un certo senso sì, con il mio punto di vista e con le mie immagini. Che spettacolo. Fantastica. Fammi un saluto in dialetto, dai. Absolute patote. Achille forever. Per sempre. Cari amici di Teleromagna, ahimè, la puntata di Vita da Mercato, qui da Sarsina, per la sagra della pagnotta pasquale, finisce qua. Zirra e frolla, hai la ben fata. Però, pur di seguitici, seguitici perché il canale è Teleromagna. Noi continueremo ancora a tartassarvi come sempre. Seguite Teleromagna, la TV che si ascolta, si guarda e non si ragna.